RUX! 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 Cazzo gli costa fermare? Eh... Sì, la ragazza è la! Minchia, 5 moto è la madonna! Eh, non ci metto per farlo! Magari ce ne sono le ferie! Oh, vai la portarmi... scusa, scusa! Mi vai a portare il disco là da autografare? Ti pago! 200 euro! 200! Ok! Adesso poi robito un primo! Sì!